buongiorno a tutti oggi domenica siamo a Fulgaria a fondo piccolo e questi sono tutte le attrazioni sciistiche che ci sono a fondo piccolo seggiovia queste nere queste rosse questi blu questa per i bambini per i più piccoli si fanno trainare da questo slittino vanno fino a su e poi scendono di là oggi una bellissima giornata c'è il sole la neve ci sono un paio di alberghi perché interessato avere la camera proprio vicino alle piste un ampio parcheggio ampio bello grande ci stanno tante macchine c'è tanta gente oggi domenica si trova sempre parcheggio questa diciamo la pista per i principiante quelle che devono imparare a sciare ci sono anche maestri fanno i corsi fanno tutto ed è un pista con una pendenza leggera non molto forte ideale per imparare tutti imparano grandi e piccoli sci e snowboard lì c'è un'altra seggiovia che porta un'altra pista rossa che si vede lì in fondo lo schermo e di là c'è un'altra non so se riuscite a vederla perfetto adesso si vede meglio ecco c'è il sole di fronte che mi impedisce di filmare ecco perfetto posto bellissimo comodo alla gente che abita a verona mantua queste zone qua qui siamo a fondo piccolo fondo piccolo sotto il comune di folgaria località fondo piccolo la strada per arrivare comodissima perfetto lì c'è la gente che fa la fila per salire ecco adesso si vede un po' perfetto lì c'è anche un piccolo parco per i bambini ecco lì lì c'è anche un piccolo parco per i bambini i più piccoli per i piccini posto bellissimo invito tutti a venire qua tutti quelli che amano la neve e la montagna bellissimo saluto ciao a tutti buona giornata